Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi ovviamente se vai su proprietà beta clicchi su csgo demo viewer questo qua e una volta fatto scaricherà il gioco e non ci resta che aspettare Grazie Grazie Ok il download è finito quindi ovviamente andiamo di nuovo sulla libreria beta e come puoi vedere queste csgo demo che abbiamo scaricato se vai a cliccare su gioca ti uscirà gioca counter strike 2 oppure gioca counter strike global offensive ci clicchi sopra e fai continua e aspetti che si apre il gioco ecco csgo se questo video ti è stato utilissimo su come tornare a giocare a csgo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao